ciao a tutti oggi voglio riparlarvi di questo prodotto lo sto già utilizzando da una ventina di giorni all'incirca ve l'avevo già mostrato mi è stato inviato da beauty lei è la seconda volta che collaboro e che provo i loro prodotti mi sono piaciuti entrambi io devo dire la verità ma questo in modo particolare soprattutto per il fatto della profumazione questo non ha profumazione per averlo utilizzato all'incirca 20 giorni come prodotto ne ho tanto all'interno non ci vuole tantissimo perché già con un pump avete la quantità e la dose giusta per viso collo ed ecco il tè io questo prodotto ve lo consiglio mi sto trovando bene ovviamente per avere dei risultati e per capire se dipendono da un siero piuttosto che un altro bisogna staccare e dedicarsi solo all'utilizzo di una determinata crema in questo caso di un determinato siero quindi sto utilizzando solo lui e posso dirvi che sono contenta ovviamente i miracoli queste creme non li fanno ma secondo me con un utilizzo prolungato riuscirò ad ottenere dei risultati positivi per la mia pelle mi soffermo soprattutto nel contorno labbra per evitare quelle rughette fastidiose che alla mia età è normale che incominciano a venire io ringrazio ancora beauty lei per avermi dato l'opportunità di provare questo prodotto ottimo io in descrizione vi lascerò comunque i link per poterlo acquistare sia su amazon che anche nel loro sito buona serata a tutti